L'emergenza sanitaria in Friuli Venezia Giulia sta toccando picchi mai raggiunti, sempre meno personale negli ospedali, sempre più medici che si rifugiano nel privato e sempre più costi per i cittadini che sono costretti proprio a rivolgersi al privato a causa delle estenuanti attese nel settore pubblico. Il momento più difficile è soprattutto quello per le persone, per i cittadini, costretti a pagare di tasca propria le prestazioni diagnostiche, le visite mediche e quant'altro, contesti costretti a fare lunghe liste di attesa nei pronto soccorso. Noi crediamo che siamo arrivati ad una situazione limite veramente per quanto riguarda un'organizzazione dei servizi che sta veramente segnando il passo. Bisogna assolutamente cambiare direzione di marcia e fare in modo che il personale dagli ospedali non vada via ma continui a lavorare nella sanità pubblica. Ma come si può provare a muoversi concretamente per risolvere la situazione? Ascoltando chi lavora ogni giorno. Noi crediamo che quando tu chiedi ad un professionista, che sia medico, infermiere, os, che migliorie sono da fare presso il proprio luogo di lavoro, è ben contento di dartele. È chiaro che il personale deve essere ascoltato, non deve avere paura di ripercussioni disciplinari se parla e se dice la propria opinione, perché chi parla dei lavoratori della sanità lo fa per migliorare il proprio luogo di lavoro. Ascoltare dunque, ma puoi anche agire. È questo l'appello lanciato con l'invito anche a manifestare pretendendo i propri diritti alle cure. E poi c'è la questione delle urgenze. Il privato può essere comodo, ma questi casi non li tratta. Il privato può integrarsi col pubblico, ma prima di tutto il privato non fa l'urgenza. Nel senso che l'urgenza è troppo costosa per il privato, perché vuol dire lasciare operatori in attesa delle persone da soccorrere. Quindi questa è la cosa fondamentale. Sguarnire il pubblico, affidare solo al privato, rischierebbe di compromettere prima di tutto l'urgenza.